Noi siamo alla Cadea SLC, siamo 16 anni che siamo presenti in Sagra, abbiamo delle piste in chiave da parte delle bigliate, il nostro prodotto di punta è questa filtra qua, rotonda, che ha un vassoio che mi va a raccogliere il grasso per fare delle piccole bigliate in casa sulla cucina, evitando di sporcare l'informe della cucina. Grazie.